Allora, nella presentazione precedente quello che io mi proponevo era di, come dire, supportare l'idea che l'acqua, anche nel suo allinsatori, si muove per effetto di un gradiente di potenziale. Questo perché, da un certo punto, ci sono molti che contestano anche questa idea, che dicono, ah, ma questa idea, in fin dei conti, questa idea della legge di Buckingham è un'idea che hanno avuto i fisici, ma non esiste nella realtà. E in realtà, invece, è basata su leggi fondamentali, come appunto il fatto che si abbiano dei moti quando ci sono dei gradienti di potenziali. Io vi ho mostrato di quali potenziali si tratta. Noi, per poter operare, però, abbiamo bisogno di qualcosa di diverso. In particolare, avremo bisogno di correlare questi potenziali con il contenuto di acqua. Perché noi, per esempio, andiamo a misurare il contenuto d'acqua e allora ci vogliamo chiedere, ma il contenuto d'acqua che c'è in un certo suolo, in quale relazione sta con il potenziale, in particolare con il potenziale idraulico? O se vogliamo, più nel dettaglio, con la suzione. La relazione che esiste fra contenuto d'acqua e suzione si chiama curva di ritenzione idrica. In realtà, qui ho scritto curve di ritenzione idrica o soil water retention curves. Perché queste curve sono parametrizzate, sono diversi nei diversi suoli e quindi bisognerà capire anche, cioè quindi ho delle famiglie di curve che poi userò per spiegare quello che succede nei suoli naturali. Ritorniamo, qui l'ho chiamato HM ma è lo stesso PSI di prima, questo che sia una funzione del contenuto d'acqua è quello che mi auguro. Vado a vedere un po' com'è il fluido in un acqua all'interno di un mezzo poroso. Beh, in generale si tratterebbe di un fluido bifase, o almeno tutto il sistema sarebbe almeno trifase, cioè una fase è la fase minerale che vedete qui, l'altra fase è la fase liquida e infine poi la fase di aria umida nel gas. Quindi il fluido è bifase ma il sistema è trifase. Come sono, vi ho detto che quando abbiamo un sistema di questo tipo esistono dei termini di potenziale che hanno un valore negativo. E perché hanno un valore negativo? Beh, l'esperimento classico che prima vi avevo illustrato sulla figura, ma sono certo di non essere stato chiaro, è questo. Io ho un recipiente pieno d'acqua e in questo recipiente pieno d'acqua inserisco un tubo capillare. Qual è la pressione sulla superficie della catinella d'acqua? La pressione è Pa uguale a zero, in relativo naturalmente all'atomosfera, perché l'atomosfera si pensa come pressione di riferimento uguale a zero. Quindi sulla superficie ho la pressione che è nulla. Quanto all'interno del tubo capillare, quant'è la mia pressione al livello della superficie libera esterna al capillare? Beh, deve essere uguale a quella della superficie libera esterna al capillare, cioè deve essere PW uguale a zero anche lì. Beh, a questo punto, se io osservo che nel capillare l'acqua sale, quest'acqua è soggetta alla gravità. Se è soggetta alla gravità, qui ho chiamato l'altezza H, esercita un peso ρgh sulla linea di riferimento in cui le pressioni sono zero. Quindi significa che appena sotto il menisco che voi vedete, in alto, nel tubo capillare, la pressione deve essere negativa, in particolare deve essere meno ρgh. Perché questa è una situazione di equilibrio, nulla si muove. meno ρgh, perché poi accumulando ρgh sulla superficie, a livello della superficie della bacinella, arrivo a zero. Meno ρgh più ρgh uguale a zero. Qui vedete anche un'altra espressione, in particolare, vedete scritto che PW è uguale a meno 2γ coseno di θr. Ed è questo il modo tradizionale in cui viene presentata la capillarità, in cui è stata studiata nel tempo. In particolare, si forma un meniscolo, in questo caso concavo. Questo menisco ha più o meno una curvatura pari a 1 su R, dove R è il raggio di curvatura. E quindi si vede che appunto il raggio di curvatura R è legato all'angolo di contatto tra la superficie curva e il lato del capillare. Qui, in effetti, siamo in una situazione in cui abbiamo un solido, che potrebbe essere il vetro, in questo caso l'aria, un gas e l'acqua. Abbiamo tre fasi. E l'angolo di contatto, in questo caso, è concavo, quindi da qui che spiega il segno meno. C'è un coseno di θ, che è l'angolo capillare, è un gamma che è, in pratica, un coefficiente che tiene conto della quantità di energia che è contenuta in questa curvatura. Potete pensare che la curvatura sia come l'effetto che si ha su un tamburo. Se un tamburo, la superficie del tamburo è piana, non è esercitata nessuna forza su di esso. Se voi schiacciate il tamburo, voi tendete la pelle e la pelle del tamburo verso il basso immagazzina una forza elastica, una energia elastica, che poi fa oscillare la superficie del tamburo. Lo stesso modo è qui. C'è una parte concava e questa parte concava contiene dell'energia per unità di superficie che è immagazzinata, che è questo gamma. Ci sono sostanze che non bagnano, l'acqua che è qua bagna la superficie, cioè l'acqua, ho supposto che fosse acqua. Se potrebbe esserci anche un capillare in cui il liquido non bagna la superficie, in questo caso l'angolo sarebbe riversato nella direzione opposta. In questo caso però non sarebbe a questa altezza, sarebbe probabilmente al di sotto del livello Pa uguale a zero. I suoli saturi quindi si comportano, questa è una spiegazione possibile del concetto di pressioni negative. E pressioni negative cosa significa di fatto? Significa di fatto che l'acqua è in tensione. È come se le molecole di acqua fossero tirate e da questo punto di vista l'acqua è una sostanza che si presta ad essere soggetta a tensioni perché, come sapete, ha una struttura polare in cui i due atomi di idrogeno sono leggermente carichi positivamente e l'atomo di ossigeno è carico negativamente. Quindi formano poi dei legami, le molecole di acqua che permettono anche che sono piuttosto resistenti. Questa è l'acqua interstiziale, qui dentro la pressione è negativa. L'angolo di contatto è inferiore a 90 gradi. Da un punto di vista geotecnico, tra l'altro, questo ha una certa sua importanza perché questo fa sì che la presenza di questa pressione negativa fa sì che i grani siano tenuti insieme da questa pressione negativa. Esercita come una coesione apparente, si chiama. Un suolo è un complesso molto complicato di tubi capillari. Non è certamente questo tubo capillare qui, è un complesso di tubi capillari in tre dimensioni. Se noi mettiamo, facciamo un esperimento di questo tipo in cui a sinistra abbiamo un suolo all'inizio completamente senza acqua e a destra abbiamo dell'acqua, l'acqua si muove all'interno del suolo fino ad una certa quantità, una certa quantità che porrà i due sistemi in equilibrio. Proprio per questo anche la psi che ho introdotto prima si chiama suzione. Una versione semplificata di un esperimento può essere questa, cioè in cui ho semplicemente due tubi capillari di diverso diametro a contatto fra di loro. Supponiamo che in qualche... come si disporrà l'acqua a contatto dei due capillari? Beh, in questo caso possiamo usare questa forza. Vediamo che la pressione in questo caso è inversamente proporzionale ad R quindi la pressione è tanto maggiore quanto più piccolo anzi tanto minore e maggiore in modulo quanto più piccolo è il raggio. Supponiamo quindi di aver fatto una preparazione come quella che succede della sinistra in cui l'acqua in qualche modo è un po' a metà fra un tubo fra un capillare più grosso e un capillare più fino. Questa situazione non è una situazione di equilibrio perché la forza è maggiormente negativa nel tubo più sottile perché R è più piccolo. La situazione di equilibrio è quella che vedete sulla destra in cui tutta l'acqua viene assorbita all'interno del tubo capillare più piccolo. Qui era fatto in orizzontale per togliere come dire l'effetto della gravità. Se io invece giro di 90 gradi questo sistema o anche l'azione della gravità la situazione di non equilibrio è quella a sinistra in cui per esempio a questo punto era la situazione di equilibrio in orizzontale diventa la situazione di non equilibrio in verticale perché c'è la forza di gravità che agisce verso il basso quindi nella situazione di equilibrio verso il basso parte dell'acqua entrerà nel tubo capillare più grande. Questo per capire un po' come funzionano le forze all'interno dei tubi capillari. Noi naturalmente siamo interessati alla descrizione non dei singoli tubi capillari ma alla scala di Darcy come l'avevo già detto in precedenza e questa scala di Darcy comunque può essere molto grande per esempio per una ghiaia può essere di 10 cm e abbiamo una descrizione macroscopica dell'energia e quindi dobbiamo andare in realtà a prendere questa visione microscopica in cui ho le forze capillari ho questi movimenti che sono dettati dai gradienti del della suzione locale e le devo integrare macroscopicamente alla scala di Darcy qui vedete rappresentato il fatto che in ciascuno dei vari parti di questo volume di controllo ci sono diverse sezioni intanto e diversi tipi di forza che agiscono il nostro quello che andiamo a considerare noi è la media comunque la descrizione media del nostro sistema qui abbiamo possiamo anche considerare che abbiamo un certo contenuto d'acqua ne facciamo una descrizione media andiamo a misurare qual è il potenziale di matrice con gli appositi strumenti che probabilmente voi accennate a geotecnica e quelle che otteniamo sono delle curve di questo tipo in cui vedete in questo caso in ordinate il contenuto d'acqua percentuale quindi la percentuale di acqua che c'è nel volume e invece in 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 ascisse vedete la la suzione in la suzione in modulo in positivo in questo caso vedete sono delle curve ad esse e vedete anche che sono che è riportata anche un fatto cioè che queste curve di suzione sono misurate con gli appositi strumenti in silt cioè in non in sabbia non in argilla ma in limo sono delle curve ad esse poi cercheremo di capire anche perché sono fatte ad esse queste curve rovesciando il grafico mettendo il contenuto d'acqua relativo s quello che abbiamo introdotto la volta scorsa il contenuto d'acqua relativo che varia tra 0 e 1 vi ricordo in ordinate mentre il logaritmo della suzione piccola che in questo caso è un s e qui è scritto come s piccolo noi l'abbiamo chiamata meno psi e il logaritmo della della suzione in scissa quando il suolo è completamente saturo cioè la saturazione relativa è uguale a 1 il suolo è completamente pieno di acqua l'acqua costituisce un'unica fase non c'è gas almeno libero c'è certamente gas ci sono gas assoluti in quest'acqua all'interno e quando mi muovo verso destra sulla curva la curva comincia si muove verso il basso c'è una specie di punto di flesso cioè non nel senso una specie di spalla chiamiamola così e qui è il momento in cui l'aria entra all'interno del suolo si formano delle delle parti vuote in cui c'è dell'acqua queste parti vuote però sono disconnesse qui l'acqua è una fase connessa cioè tutta l'acqua si può arrivare in ogni punto che c'è acqua da un altro punto che c'è acqua passando all'interno del sistema invece l'aria solitamente è disconnessa man mano che andiamo verso destra e scendiamo sulla curva il nostro sistema diventa la nostra cosa si capovolge nel senso che il suolo è parzialmente insaturo l'aria diventa è una fase continua mentre l'acqua diventa una fase discontinua cioè varie parti in cui c'è acqua sono discontinue alla fine siamo nel caso nel caso più a destra in cui non c'è praticamente acqua c'è una piccola parte di acqua che aderisce al suolo e questa parte è quel famoso θR che abbiamo introdotto la volta scorsa e che avevamo chiamato saturazione residua una rappresentazione semplificata delle curve di ritenzione idrica che è questa in cui delle rete sono state interpolate alla curva di ritenzione e in particolare si definiscono due punti uno SB che è il valore della suzione in cui avviene l'entrata dell'acqua l'altra la SR è grossomodo la saturazione residua vi potrei dire che vi ho ingannato vi ho ingannato un po' perché le curve in realtà le curve di ritenzione idrica non sono delle curve non c'è una relazione bionivoca fra suzione e contenuto di acqua bensì quello che si osserva che in drenaggio la curva è più alta ci sono in drenaggio si osserva una certa relazione che è la curva rossa una certa relazione fra contenuto d'acqua e suzione che si mesura macroscopicamente con degli strumenti mentre nel caso della curva di infiltrazione le curve sono più basse cercherò più tardi di dare una spiegazione di perché questo succede se non si completa il ciclo di infiltrazione e di drenaggio e ci si ferma a metà si ottengono degli effetti come quelli che sono disegnati in verdino che si chiamano scanning curves curve intermedie tra le varie curve quindi il fatto è che le curve di ritenzione idrica non sono in realtà delle curve per certe applicazioni però possiamo anche non considerare questo fatto nel senso che la differenza tra le curve di drenaggio e le curve di infiltrazione sono nascoste dall'eterogeneità dei mezzi che andiamo a trattare siccome abbiamo mezzi diversi e costati l'uno all'altro la variazione che si ha fra un mezzo e l'altro è molto più grande della variazione che si ha se tenessimo conto dell'isteresi idraulica è la ragione per cui gli effetti dell'isteresi idraulica vengono in qualche modo a mancare e a non essere definito quello che succede è che quindi intanto di solito non ce ne curiamo non ci curiamo del fatto che esista l'isteresi idraulica e noi andiamo a considerare le curve come se fossero delle curve continue e univoche one to one una singola una relazione fra esiste una relazione quindi tra psi e teta in particolare allora se esiste una relazione bionivoca tra psi e teta posso considerare che la variazione del tempo e questo mi servirà in seguito di teta voglio considerare la variazione del tempo di teta questa variazione nel tempo di teta è una funzione di psi e posso pensare di usare la chain rule la regola la catena di derivazione quindi questo è uguale a d teta su d psi per d psi su d t e faccio questa operazione perché poi è una parte della derivazione che farò in seguito ma anche perché in questo modo vado a definire una quantità una quantità che è la derivata del contenuto d'acqua rispetto all'assuzione che si chiama capacità idraulica dei suoli questa capacità idraulica dei suoli ha una sua ragione e in particolare la capacità idraulica dei suoli a quella forma che vedete disegnata in orizzontale se chinate la testa così vedete una specie di forma gaussiana mentre la curva di ritenzione qua è disegnata di nuovo con il contenuto idrico sulle ascisse e l'assuzione sulle ordinate è ben strano che la curva che la derivata cioè la capacità idrica abbia questa forma ci deve essere qualche ragione specifica per cui ha questa forma in effetti la capacità idraulica ha questa forma perché questa forma è dettata dalla distribuzione dei pori consideriamo infatti il contenuto d'acqua teta w di r dove r è il raggio dei pori e consideriamo la porosità che altrove avevo definito phi e phi s e qui definiscono teta con s che chiamo teta con s ma è sempre la solita quantità e vado a considerare la funzione di distribuzione dei pori cioè f di r è una distribuzione per esempio di tipo caussiano supponiamo dove la mia variabile è la distribuzione dei pori e dico beh teta faccio anche qui mentre sto scrivendo questo integrale faccio un'assunzione molto importante cioè dico supponiamo per esempio che quando vado a riempire d'acqua i suoli si riempiano prima i pori più piccoli e poi i pori più grandi in maniera ordinata allora l'integrale fra 0 ed r di f di r primo in r primo se volessimo scrivere l'equazione scritta in modo giusto non sarebbe altro che la parte di integrale sarebbe la probabilità di avere pori minori di r di dimensione minori di r la situazione è questa qui l'r qui è stato chiamato giustamente r grande l'estremo superiore dell'integrale che compare qui e come vedete qui ho assunto di avere una distribuzione dei pori una distribuzione definita positiva immagino sia una distribuzione log normale mi pare che abbiamo preso sull'asse verticale c'è la dimensione dei pori non in centimetri alla meno 1 perché non sono 100 sarà micrometri alla meno 1 vabbè la dimensione è sbagliata ah per 10 alla meno 3 infatti centimetri per 10 alla meno 3 benissimo e tutti i pori dalla dimensione più piccola 0 fino ad r grande sono riempiti che è la parte di curva al di sotto al di sotto la parte di curva disegnata in blu quando scrivo l'integrale precedente quell'integrale cambiando l'estremo superiore in r grande sto esattamente facendo questa operazione che vi sto rappresentando qui l'integrale di questa cosa è una specie di forma ad s effettivamente e questo spiega alcune cose però dobbiamo fare alcuni passaggi qual è il legame fra il raggio dei pori e la suzione beh posso usare la legge di Young Laplace in questo caso in cui mi dice che il potenziale di suzione è uguale a una relazione a quei pori ed è uguale a meno 2 gamma diviso gamma r gamma w per r e quindi r è inversamente proporzionale al potenziale di suzione che qui tanto per cambiare ho chiamato psicone m quindi posso fare un cambiamento di variabile da r a psi e nel cambiamento di variabile ovviamente compare anche lo jacobiano della trasformazione sotto il segno di integrale perché quando cambio variabile sotto il segno di integrale come avete imparato nei corsi di calcolo ciò che succede è che devo anche fare il dr su de psi e questo dr su de psi in questo caso è uno su psi quadro devono cambiare anche gli estremi di integrazione allora psi per r uguale a 0 è meno infinito mentre per r all'estremo superiori è meno 2 gamma gamma diviso gamma w psi con m che è la pressione del poro più grande la soluzione del poro più grande il coefficiente poi davanti fa sempre parte del cambiamento di variabili che è come vedete 2 gamma gamma w theta con s dunque questo è il nostro theta w come funzione di psi di psi con m e se questo è il nostro theta w in funzione di psi con m in base alla teoria elementare che regola che è il rapporto fra la dimensione dei pori e la soluzione facendo la derivata di theta w rispetto a psi con m ottengo esattamente quello che cercavo e cioè che le nostre la nostra capacità idrica che cos'è theta con s per f non tanto calcolate in r in questo caso ma in psi con m cioè ma relativamente a questa figura che vedete qua passare da r a psi con m significa semplicemente cambiare i numeri nelle ascisse ma non cambiare la forma della funzione e quindi questo spiega il fatto che qui per esempio ho questa forma qui abbiamo quindi anche dato una spiegazione in base ad un'interpretazione peraltro del fenomeno di infiltrazione che effettivamente semplifica le cose nel senso che io vi ho detto prima si riempiono i pori grandi quindi sono in imbibizione in questo caso poi si riempiono prima si riempiono i pori piccoli poi si riempiono i pori grandi quando invece sono in evaporazione o in drenaggio prima svuoto i pori grandi e poi svuoto i pori piccoli perché nei pori piccoli l'acqua è trattenuta con maggiore energia e viceversa i gradienti del moto portano l'acqua dove? dai pori più grandi ai pori più piccoli questa ridistribuzione avviene praticamente in modo istantaneo se l'acqua non avesse una viscosità uguale a zero invece l'acqua ha una viscosità quindi quando cade in un poro grande non va a finire immediatamente alla velocità della luce dentro nei pori piccoli ci mette un certo tempo e questo spiega anche per esempio la differenza delle curve di suzione in drenaggio e in nella fase di invibizione questo perché quando io quando io dreno certamente il drenaggio può essere selettivo cioè prima si drenano i pori grandi o evapora l'acqua dai pori grandi certo evapora anche dai pori piccoli ma nel frattempo l'acqua fluisce anche dai pori più grandi ai pori più piccoli per colmare l'acqua che è evaporata o che è drenata dai pori piccoli viceversa quando io sto imbibendo il suolo quello che faccio è butto tutta l'acqua dovunque e il tempo in cui che l'acqua impiega a redistribuirsi è maggiore mentre io misuro quindi misuro non delle condizioni di equilibrio ma delle condizioni di disequilibrio in cui le due la distribuzione delle pressioni all'interno del mio sistema non sono esattamente bilanciate beh qui ho spiegato ho ricordato la legge di le proprietà dell'integrazione rispetto alle quali ho rispetto alle quali ho che ho usato nelle precedenti derivazioni delle condizioni nei casi pratici le curve di ritenzione idrica sono parametrizzate il che significa che io prendo delle espressioni delle curve di ritenzione idrica che sono quelle riportate nella tabella gialla le imparerete a memoria adesso io non ve le ripeto in cui s con e è definito come teta meno teta teta r no meno teta w diviso teta s meno teta r no è teta meno teta r diviso teta s meno teta r c'è un errore nel nel al numeratore e e varie fra 0 e 1 poi vedete la prima è l'espressione di Brooks and Corey che c'è un psico m è la nostra soluzione psico e è un parametro di riferimento mentre lambda è un secondo parametro nella curva di van genuchten osservate che effettivamente questa curva è 1 diviso 1 più aperta parentesi tonda alfa psico m alla n chiuso la parentesi tonda alla meno m dove alfa n ed m sono dei parametri della curva di van genuchten e n ed m cioè ed alfa è maggiore di 0 sono tre parametri in realtà queste parametrizzazioni non hanno la curva di van genuchten in particolare non ha tre parametri ma ne ha cinque perché uno è teta con s e l'altro è teta con r che non compaiono qui in queste in questa in questa espressione c'è una terza espressione che poi voi forse potrete usare nelle vostre esercitazioni che è quella di kosugi quella di kosugi in che l'effetto della derivazione che abbiamo fatto qui in precedenza cioè in cui si parte direttamente da una funzione f che è supposta essere la funzione di distribuzione dei pori e assumendo naturalmente che il drenaggio avvenga ordinato come abbiamo detto prima queste curve di ritenzione idrica sono quelle poi appunto che sono implementate nei modelli che userete e che rappresentano la relazione fra il contenuto d'acqua del suolo e la suzione se adottiamo per esempio le curve di Bang & Uckden per viceversa derivare la distribuzione dei pori quella seconda di queste equazioni possiamo invece di facciamo esattamente l'operazione inversa di quella che avevamo fatto in precedenza assunto che la distribuzione dei pori che è la derivata della della curva della capacità idraulica è la distribuzione dei pori allora posso prendere la distribuzione di Bang & Uckden derivarla e ottengo questa espressione che è piuttosto complicata come vedete però è la secondo quella che dovrebbe essere la distribuzione dei pori secondo Bang & Uckden la la forma parametrica di Bang & Uckden ha avuto piuttosto successo in letteratura perché parametrizzava bene gli esperimenti e quindi è usatissima e la conseguenza di questo è che in letteratura si trovano vari metodi per andare a identificare quali sono i parametri delle curve di Bang & Uckden e questi parametri dunque e quindi la curva di Bang & Uckden è il nostro primo riferimento in questo caso per capire come sono fatte le curve di Bang & Uckden per esempio vedete questo grafico in cui abbiamo il logaritmo della della soluzione in ascisse e il contenuto d'acqua in ordinate che cosa corrisponde i valori in ordinate e i valori delle diverse curve corrispondono a diversi valori del coefficiente n che compariva nell'espressione qui della curva la derivata di quei no beh qui facciamo variare n qui abbiamo fatto variare m scusate e questa è la variazione di n per darvi l'idea di come sono fatte queste curve certo voi poi le potete anche disegnare voi stessi nel modo opportuno certamente si può usare anche una curva di Vangenukten fare misure di suzione e misure di contenuto d'acqua in contemporanea su dei campioni e che sono questi punti che appaiono in questo grafico e poi cercare di interpolare i parametri di una curva di Vangenukten a questi punti i metodi di interpolazione sono esattamente gli stessi per esempio minimi quadrati potrebbero essere minimi quadrati non lineari per ottenere per ottenere la curva interpolante e questo per esempio è un caso di interpolazione dai dati dai dati misurati qui abbiamo altre curve di ritenzione idrica come vedete in funzione però dei differenti tipi di suolo io non vedo la leggenda ma presumo che per esempio la rossa sia una curva di un'argilla perché le curve dell'argilla hanno questo andamento molto più lento rispetto alle curve relative alle sabbie o ai o ai limi un aspetto interessante è che che sarà poi legato alla definizione della conducibilità è per esempio il fatto che queste curve si intersecano quindi uno si aspetterebbe che per esempio le le argille questo è un altro discorso ancora ma comunque le curve si intersecano non sono diverse fra di loro nei diversi suoli quindi i suoli si comportano anche in modo diverso anche in funzione di questo fatto direi che possiamo fermarci qua per il momento di fare un 5 minuti di pausa se ci sono delle domande non fate altro che farle io vi rispondo grazie a tutti 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 grazie a tutti